E quindi, per cortesia, chi dice che aumentano le tasse o che ci sono i tagli, dice una cosa semplicemente che non è vera. Poi possiamo sempre cercare di fare meglio e diminuire ancora le tasse, ci proveremo, ma per il momento partiamo dal presupposto che nel 2015 le tasse diminuiscono di 18 miliardi con gli 80 euro e con le misure sul lavoro e quindi questo DEF è un DEF che non è una manovra, come tecnicamente siamo abituati a considerare la manovra. La manovra è quella cosa che alla fine toglie i soldi dalla tasca degli italiani. Questo è un DEF che sta nella linea della legge di stabilità e che prende atto di alcune novità anche di natura macroeconomica che Piercarlo ci ha illustrato e che stanno in una nota che vi verrà distribuita al termine della conferenza stampa.